a coglione ma che ce l'ha commesso coglione arge 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 piselletto che vuoi che c'è il gassettino certo che ti faccio entrare davide o arge che dici ma si è risposto in merda ma che ne so sto male mi fa male la schiena sei arrivato frate insomma insomma niente che muovere frate a fare una visita ma senti una cosa posso fare una domanda pure due ma te come ha iniziato a fare musica perché riuscivo riuscivo in qualche modo a cantare a cantare col culo facciamo i denti dai far serio che vuol dire come iniziare a fare musica come te lo posso spiegare fa schifo la sua musica oh lascio un fa lascio un fa fa schifo la mia ma perché ma farei schifo te a stronza ma fa col culo sicuramente certo sì vabbè insomma che sta a fare stasera niente stasera non si frega vabbè rispondi bene almeno se uno deve fare una domanda guarda eh la so fa più a male no no non lo so ma il coglione sta a piangere addosso ma fa pure il bestemmia dai che va no sono stanco sono stanco ho dormito tre ore quindi adesso la mattina alla sera che ti fa che sei stanco sono uscito ecco questo l'ho fatto sto sempre a lavorare quindi mica so come te che lavori da non fai in cazzo tutto il giorno a casa sto dicendo vabbè ci vai a scuola ci vai a scuola no ma che a scuola ma che c'è la scuola ho finito a scuola io sono intelligente almeno ho finito tu no ma dove vai cosa fai i lavori che fai eh sì lavoro la S Roma la conosci no la squadra di calcio ah no giochi a palloni no no lavoro proprio cioè faccio accompagnatore ai personaggi pubblici come te ai persone disabili come a te sì eh hai visto hai visto ti puoi fare l'accompagnatore anche a lui dipende se me capita sì ma padre a me serve l'accompagnatore fa una caga preparati preparati che puzzo pure parecchio quando cago io eh meno male e mica mangi le saponette se vai eh c'hai ragione no che vabbè 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 vi lascio stare dai quando caghi fammi capire eh te non fuzzi quando caghi no no io cago e basta la merda mia profuma cagli mangi le saponette no no io mangio altro mangi in marsiglia che mangi e caramelli ah solo quelle sta dieta eh certo faccio pure palestra ti è ti piace la panca c'ho tutta qua a parte i vestiti la panca quella è apposta adesso sì perché non ho buttato i vestiti così all'aria sì sì è una voglia che sarà così no 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 la faccio palestra tutti i giorni la montata di mattina in poche parole sì hai ragione dai pensa pensa no ora questo lo devo dire che al zero eh io la prima volta che ero qui lui non stava le mutande io non capivo perché e il motivo era perché non si voleva fare lavatrici le cose al zero io ti dico pensa un po' tu come stavi no sono tutte stesse ma perché adesso come sta scusa eh come sta adesso ah ora ho le mutande perché io le lavo meno male che ci stai te no eh sì e chissà ancora non ho capito sei una donna la o ma quindi se do abiti non ho capito ancora a piana dell'erba a piana del sole ho capito perché piana dell'erba non c'è sta ma stiamo lontani tanto c'è c'è eh eh vabbè te la sei presa a mare eh mi sa di sì mamma no perché non so che fai capito ho spento mo' la play stavo a giocare Call of Duty hai fatto bene game over eh sì mi sa di sì hai perso eh so scarso mica siamo forti tutti come te no al forte c'è la cani i soldati ma te ne affanculo ma marmo official dai ciao 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 bello bello che amico marmo official ciao cuccioletto ah mo eh ma vieni a sentire se mi c'ho cagato in borsa no 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 devi sentire solo se mi sono pregato addosso mi basta una mano sul culo non è che devi fare i salti mortali no ma mi è entrato l'amico di cerri scotti certo eh allora lui cosa è già amico eh voglio parlare qua il genere ma che cazzo mamma mia quanto siete monsci le ragazze dico certo che ti faccio entra calmati calma stai calma mi rifiuta vedi ma chi è mi rifiuta? io faccio entrare la gente però mi rifiutano e come si permettono? fammi parlare io ti faccio entrare a rifiutare la mia donnina brutto pezzo di merda mosciosa che vuol dire mosciosa? mosciosa? mosciosa ho scritto e c'hai detto moscio? come ho detto moscio? ho detto moscio? eh no io non ho davvero? io no ma non quanto te parli moscio ma stanza di merda hai detto quello che ti ha detto questo pezzo di merda? ha detto mosciosa ma questo vuol dire? ha rifiutato allora perché scusami scrivete fammi entrare che caga cazzo? mi fai entrare accettami accetto che ti accetto ah non c'hai paura di me? no si 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 c'ho paura di te merda diretta dal culo del culo va te ok mettilo con uomo me vero allora chiamo te mi fai 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 speriamo magari non accetta un bel altro no non accetta infatti ha rifiutato è vero? eh si io non lo sapevo accetto dai accetto azzurzo come azzurzo? bella la mia cappella bella già chi è? chi è? guardami mi sai che guarda il cellulare? fa l'educazione a me ora scopri tu che cazzo vuoi? non ti sto risultando io dai la torcaveruta che c'hai? se lo giocavo un gol che vuoi fra te? che bo fa? vuoi ridicati? no non voglio ridicati so tranquillo io ma cazzo vuoi ridicati! va ridicati? so tranquillo io a me non mi pare non mi pare non mi pare ma no fatta fare una cazzu fatta una cazzu una strunza la faccia di merda parla bene io sei talmente educato anche davanti a mia madre ho detto canta la canzone fratellino non ne so canzoni per te hai detto? non ne so canzoni per te canta la canzone che canzone te canto? fratelli canta come canti in quest'ultima non è molto simpatico il tuo ragazzo come? non è molto simpatico il tuo ragazzo no perché no? stai tutto incazzato io sono tranquillo sto tutto incazzato ma dai che scema se tu ti dici le faccio diventare intelligente fratello angelo via qua lontra stai tranquillo le faccio diventare nutre via qua adesso che dire simone tesoruccio troppo arrivederci sto tutto incazzato ma perché bella questa bella eh? si ti manca la cacca non più ascolti io ho sette filtri so e mo canti tu una manzone no basta mi fai entrare sono un figlio di conte certo che ti faccio entrare a 17.27 ho cassetto duro che vuoi che ci faccio entrare Tutu bahuati Wapata bata bata Aniqui wahu Wata wata Aniqui wahu Wata wata Tawakapu 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 Tawakapuku Tawakapuku Tutu nemabaka Wata wata Batawaku Batawatu 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 Cazzo E che cazzo Al jeshu il cazzo se ha le palle Ma che se Ma vabbè Amor non uscì niente Mi sono sentito male Ma che cazzo Ma non uscì Due in uno Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Stiamo aspettando Stiamo aspettando Argero Ehi Che stai a fa' Argero Ehi Che stai a fa' Che cazzo Do sai Scusa Mi sto scoglionando C'è fra queste 570 persone Perchè schifosi Perchè schifosi Solo Linda L'ex moglie D'algero Mi accetti? Amor c'è Linda con la faccia da uomo Mi devi qualcosa Mamma Davvero? Ma rifiutate? Mi devi dire qualcosa? Sei stato sposato con Trance Ah puttana mettimi Ok vabbè Calmo Ma che cazzo scrive? Se non erro Questo la vuoi già fatta entrare Sai? Sai com'è? Mi raccomando Azzuzza Azzuzza Addirittura Azzuzza Passami quel progio Subito Non lo vedi? Che sta qui? Ma che cago io? Aricchione Sì Aricchione del merda Ma che c'entra? Che c'entra? Che c'entra? Che c'entra palle? Rispondi C'ho due palle sotto Fatemi te metti tu A merda Se te pio ti ammazzo tutto A merda E? A merda Fai il figo con me se le palle A merda Che palle amore Mi hai rotto il cazzo Ma mi hai rotto il cazzo Fammi entrare Sono un carabiniere Vabbè ris è bella sì Ma ora ho visto ora Ma ora ho visto ora oi oi ragazzi bella come un tappo aspetta tutto bene ciao alge ciao fratelli che combini non si vede niente ma secondo me il nostro programma è connessione uno vuole entrare ha detto che è proprio scopato come fatti vendete anche qualche bustino che palle ma io fammi entrare che mi dico una ferita greve questo si sta medicando una ferita greve cosa ti sta medicando il cervello eh me si ha fatto male ti giuro guarda ma ora ti faccio vedere proprio per culo qua che hai fatto non si vede ma che è quello è un graffio grello la cita mi fai tagliare comunque mi fai troppo rire fratello come è successo ho preso il calcio in vetro mi sono graffiato tutto sono un coglione sono vabbè sti cazzi era una macchina abbandonata ho detto vabbè ma sai che ti dico ma io ti dico il calcio solo che ci sono entrato dentro ma devo devi mettere il calcio a far culo no? eh? hai risalto subito vabbè hai metto troppi problemi che me lo metti? il calcio a far culo vabbè lo metta appo ah io ti giuro io ne faccio queste cose le posso dire per la non mi piacciono il calcio a calcio a culo ma la posso dire la farai io ne ho questo guarda che c'ho questo va bene uguale è uguale la costigenata vabbè ti dico ancora meglio ti posso dire ancora meglio vabbè ti posso dire ancora guarda che c'ho sì schiuma da barbaclulasio bello ah sì questa le fa male breve venite al culo prima di metterci al carciofo così dici quindi il ragionamento è se c'ho il carciofo al culo che me frega che mi hai dato la gamba tanto già mi fa male quello bravo capito come poverdi non ti sento bene ma niente in realtà me la sono già medicata comunque c'è niente da parte di me mi dispiace oh c'è stato un amico mio salutati il Luca Chiapparicce ti prego saluti Luca Chiapparicce ciao Luca Chiappa ciao ciao Luca Chiappa io devo dire proprio piano per culo senti il cognome che c'ha piano per culo ti prego non lo so penso tipo un suo trisacolo non so perché Luca Chiapparicce c'ha la due ricci nel culo non lo so vuole cambiare il cognome perché lo sfreggiano eh direi di cambiare il cognome all'anagrafe non lo piano non lo fanno andare ma anche è italiano questo capito quindi manco ci può andare l'anagrafe ma in tanto bene da un punto in tanto peso a casa allora lo chiamiamo eh due del cognome ma sa parlare italiano? sì sì certo lo sa parlare si chiama Luca cioè già quello potrebbe farti capire no parla italiano Luca si chiama Luca? Luca Chiapparicce Luca Chiappa? Chiappa Luca? lui in qua chiappa sulla nuca ma lì che ce ha pure un chiappe su la nuca ma qua sotto c'ha due chiappe giganti come devo spiego ce ha il culo faccia va c'è il mentosinito sì come si dice? mentosinito ma si dice mento a culo non si dice mentosinito ma che vuol dire mentosinito mentosinato sei nato sei nato cornetta al culo si dice o no? una volta l'ho chiamato mi ha risposto cacolnetta al culo stavo a ordinare la pizza quello siccome che le mani stavano lavorate ha risposto cacolnetta vabbè ho capito vabbè ci sta ci sta uno s'analizza non ci hai mai occupato così frate se ci pensi fa tre per uno perché uno segna l'ordinazione uno stende la pizza e uno parla al telefono però mette al culo mette al culo stende la pizza e segna l'ordinazione comunque c'è una fantasia te giuro se tu la usassi per qualcosa costruttivo e non parlassi solo di culo potresti fare qualcosa o no? a me mi bastano i soldi tutto il resto che me ne frega c'hai ragione porco due portaccio c'hai ragione è vero tocca a pensare quello eh? l'importante sono i soldi bravo e io manco c'erio i soldi guarda gli ultimi soldi guarda gli ultimi proprio ti ha pensate ti ha brutte cose vabbè non solo erano gli ultimi soldi ma li hai anche buttati a te te dovrebbero da poco la coppa dello scemo vabbè mi dispiace la droga fratello ma non mi aspetta un attimo non mi dici le cose varie dimmi solo se te stai risolto ma di che? ma di che? cioè che stai a sbordare stai a sbordare oppure no? hai sbordato fratello? eh ma io so la prima partita IVA fratello ma sai che ho detta vabbè hai cavalcato l'onda hai cavalcato l'onda o no? no non è l'onda fratello io non devo cavalcare sono io l'onda fratello sei tu l'onda la cavalcare c'era giro ma è vero però io mi fanno l'onda nessuna mica sono una donna no no io dicevo dicevo così per dire te hai l'altro l'attimo che dice ha pippato accetta dice Daniel Casamonica l'altra volta lo conosci? ma è vero è uno vero un real Casamonica oppure io non lo so io non mi voglio incerto niente tutta sta roba incerto con niente ma te tazzetto se no ti fanno sparire a me eh ma ma cos'è lo stomaco sai chi sono come va a farmi sparire e ti faremo cavalcare il cavallo bianco di Garibaldi anvedio anvedio eh una brutta minaccia questa hai ragione mi hai chiedito la porza il colore era il cavallo bianco di Napoleone del colore era? eh tutto bianco tranne sul torso che c'è sta Napoleone che si scagazzava addosso quindi un po' un marroncino un lato è tutto bianco allora fa te ti faccio un gioco di che colore è il sangue? di che colore è? di che colore è il sangue? è rosso stai sicuro? oh sì tanto lo sai che mi sta per curare mi dice qualcosa di grande sì sono sicuro mi è uscito ad affrontare il sangue ieri sera sì e quindi il sangue è rosso? per me o sì? i pomodori i pomodori sono rossi i pomodori sono rossi poi che c'è sta di rosso? le mele la passata i mele poi la cappella quando è bella gonfia è rossa viola sì poi che c'è sta di rosso? la Ferrari eh oppure che ne so è il fuoco è il semaforo è il semaforo sì e tu come passi il semaforo? fa verde? dipende se favo di fretta quando è rosso se no è verde allora lo vedi che tutto coincide il colore del sangue con il semaforo rosso se tu passi nel semaforo rosso capace che è rosso da escire dal sangue capisci che dico è tutto connesso tu pensi che è casuale il fatto che hanno certo proprio il rosso per non passare il rosso è segnale di morte c'ha ragione porco porco Dio ah ok no no chiaro chiaro quello è no 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 certo ti seguo ti seguo perfettamente lo capisco logico c'è un filo conduttore tra le due cose tra il sangue e il semaforo rosso il filo conduttore c'è un filo conduttore ben deciso ma senti una cosa ma il cuore che è rosso è una cosa bella no come me lo spieghi è una vita alla morte non ti sento forse hai detto qualcosa non ti sento il cuore che tipo di muscolo è è un muscolo striato e liscio va bene ma che tipo di muscolo è involontario che fa dentro lo vedi lo vedi lo vedi le cose le cose le so professore le sono applicate le sono impegnate poi te lascio perdere che ti stoccupe troppo spazio so che dovete macinare ma lei sai un sacco di cose cioè con te hai studiato qualcosa se hai fatto qualcosa o sei sveglio che cazzo comunque però te hai studiato qualcosa io ho studiato hai studiato ho studiato tanto ti dico la verità dimmi la verità cioè non mi dico perché che cazzo è che è un muscolo striato celiaco che vuol dire io sono diplomato allo scientifico con quanto sei passato con quanto sono passato vabbè con 60 io 60 quindi pure te non ti preoccupare ma perché ho menato tutta scuola vabbè ho fatto io ho fatto vabbè perché ho fatto io ho menato al preside una volta una volta al figlio del preside aveva restato a fiumicino cosa strana aspetta aspetta un attimo ma sta in diretta niente niente sta in diretta con cioè sta a mia madre che chiede giustamente non urlare che tu non sa capito no 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 vabbè 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 non ti preoccupare e vabbè quindi t'hanno t'hanno così t'hanno staccato t'hanno t'hanno messo 70 per quello perché è un po' pazzo un po' fuori di destra 70 ha detto 70 no no 50 ah pure io grande grande è apposta e non da niente niente allora buona girata bello bello fa te un bacione buona fortuna bello fa te pure te certa merda mi sembri sponso vabbè frate c'è il culo che te dove è ma che mi racconti fratelli che mi racconti fratelli te posso fare una domanda te posso fare una domanda pure due ma perché che te trappa nico quella che c'ha l'ice che si è fatta scopata max felicitas ma che sta a dire frate lo sappiamo tutti sta su internet vede lì la parezza lo lasci parlare no è zitta maiala che ti fa parlare con l'amichetto mio dimostra quanto è uomo e quanto hai caratteri mi fratello vabbè ma insomma stavizzi sta donna frate c'è un cazzo che è un abbacchio fate una domanda ma che c'hai fratelli ma questa manco sentirà per quanti ne ha presi frate c'è un cazzo che se te lo metto vicino è più grosso il cazzo mio che te ma frate ma te non hai capito che è il cazzo tuo non si sa che c'ha più grosso il cane di mia sorella non si sa che frate tu sei brutto sei racchio e non c'hai manco il cazzo che ne abbacchi e dai però così no ma dov'è il rolex finto fra quello finto o quello vero quale vuoi quello finto voglio quello vero fammi vedere quello vero fagli vedere quello vero fammi vedere quello vero la pupa è un matine una scureggia è schifo è schifo mamma mia ma una camera gas sarà quella camera mamma mia la puzza di cappella c'è stato là dentro quanto hai pagato il rolex vero ma che ha pagato il fungo ha pagato ma apri qua la finestra te posso fare una domanda te posso fare una domanda quando è che torni a fare diretto su twitch e mi facci sentire male io ti regalo casa mia se ricomincio a fare i soldi ma davvero con twitch te ricomincio a fare i soldi te lo dico io no 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 te lo dico io fratelli la compro io a webcam te ne compro sei e dai e dai fratelli dimmi indirizzo poi con quelle mutande farsi mi ti compro ma sei sicuro che friend's shoes come ti ci deve tutta roba vera certo fratelli tutta roba vera sei lì ma quale roba vera ma basta che te te pagano no oh tu stai fa troppo il fio della magnotta car giuro ti piove l'orecchio e ti porta spasso come i cani fratelli tu non te meni manco da solo ma sei un gatto morto fratelli sei un ruba galline sei un ruba galline a pecorare a prete sei un abbacchio con quel mini guarda manco se vede in mezzo a quei versace finte te porto te lo fa vedere io un cappello vero la merda te lo fa vedere io un cappello fate vedere sta cappella è scritto a magna pecore ma che è Pasqua sei un po' maniato ma quanto te scaccoli al giorno sei un po' pentito sei un po' pentito pentito no te ti fa oh deve sta zitta Giorgia mi hai scelto la cappella mi hai scelto la puntina mamma mamma sei un nascondito agar giuro via qua che c'è il cazzo puro ecco agar giuro qui è qua ah frate te porta spasso a te e quel cane e sei un mincezzina mamma mia oh ma da smetti di toccartelo non ce l'hai te sei pippato pure al tavolino stasera quanti anni ce l'avete dai ah io ce l'ho 14 e lui pure portacci però siete simpatici guarda quanto siamo belli tiè mamma mia non so se che è più brutto tra noi due e te hai messi insieme fama gara vabbè frate ma hai rotto il cazzo oh è maurì ma che chiacchierano ci hanno sempre il moccionato non so se che è più brutto non so se che è più brutto